ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video allora in pratica andando qua a destra in alto abbiamo questa voce qui risquatti oggetti gratuiti abbiamo 14 giorni per completarla erano 15 compreso ieri e praticamente ci dice che loggando il primo giorno il quarto giorno nel settimo giorno otteniamo queste tre ricompense il titolo sopravvissuto la particella quale scente e le ali di farfalla scure ok quindi mi raccomando ricordatevi di loggare in modo da riscattare questi oggetti gratuiti ok niente il video finisce qui un video molto breve giusto appunto per ricordarvi questa cosa e niente ci sentiamo al prossimo video ciao